Si ha tutelato il vino nostro e il nostro olio, per cui benvenga che lo Stato abbia approvato la legge all'occorrenza che protegge il prodotto nostrano dalla concorrenza. Pertanto non si è consentito ai transalpini di commerciare in oli e vini perché deprezzerebbero le viti e gli uliveti, prima i nostri interessi, non credi, e poi quelli stranieri. Grazie.